E' arrivata la citazione a giudizio, la procura di Trani indaga da tempo sui vertici di alcuni istituti di credito accusati di aver fatto sottoscrivere rischiosi contratti derivati ai imprenditori di Corato nel Barese, tra cui un ristoratore. Il PM Michele Ruggero ha chiesto che vada a un processo il presidente della Banca Nazionale del Lavoro, Luigi Abete, e altri 12 manager e funzionari della BNL, tra cui l'ex vicepresidente Sergio Erede, l'amministratore delegato Fabio Gallia e i responsabili della direzione finanze e retail. Secondo l'accusa, avrebbero spinto i funzionari pugliesi a vendere ad alcuni imprenditori di Corato prodotti pericolosi e speculativi dai quali avrebbe guadagnato solo la banca. I fatti risalgono agli anni tra il 2008 e il 2011. Un ristoratore privo di esperienze in materia di prodotti finanziari che aveva contratto un mutuo per alcuni milioni di euro sarebbe stato spinto a sottoscrivere il contratto per un derivato swap con l'assicurazione che sarebbe servito a stabilizzare il tasso variabile che aveva scelto per il finanziamento. In realtà, quello strumento, secondo quanto emerso dalle indagini, gli è costato una perdita di quasi 600 mila euro. In base all'accusa, la banca, nonostante le anomalie e le irregolarità rilevate nelle ispezioni di Banca Italia e Consob, non ha adottato tempestivamente e proficuamente le libere iniziative, procedure e tutti gli atti necessari a garantire l'effettivo rispetto della normativa in tema di strumenti finanziari derivati e la correttezza delle modalità di vendita dei prodotti. Il processo comincerà il 4 dicembre prossimo. A conclusione delle indagini erano 16 le persone indagate. Le posizioni di tre di loro sono state stralciate per il differente livello di responsabilità. BNL ribadisce la correttezza e linearità dei comportamenti tenuti dei propri esponenti coinvolti.